Una nuova esclusiva Eden Viaggi è la Motonave Concerto, un vero e proprio hotel di lusso galleggiante per solcare le millenarie acque del Nilo. L'imbarcazione consta di 63 cabine e 4 suite. La particolarità della motonave è che le cabine sono molto di più di quello che normalmente ci si potrebbe aspettare. Spaziose, perfettamente arredate e con ottimo gusto, design minimalista e con ampio spazio a disposizione, non hanno nulla da invidiare alle stanze di un normale hotel di lusso. Situazione inusuale finora su imbarcazioni di questo tipo. Tutte le cabine sono dotate di minibar, tv LCD con ricezione satellitare, lettore DVD, connessione internet, telefono, sistema di filodiffusione, aria condizionata a controllo individuale, cassetta di sicurezza, grande finestra panoramica apribile, bel bagno spazioso e anch'esso sapientemente arredato con vasca, asciugacapelli e telefono. La motonave deve il suo nome e concerto al tema che ha ispirato l'arredamento interno dell'intera imbarcazione. Ovunque, figure stilizzate di strumenti musicali realizzate in marmo. Fiore all'occhiello della motonave è l'ottima ristorazione italiana e internazionale. Il ristorante principale, ampio e luminoso, con i suoi 140 posti a sedere, offre un servizio rapido e organizzato. Il cibo della cucina, paria e gustosa, lo si potrà assaporare in uno splendido spazio dove verrà servito a buffet. Anche qui ricorre il tema della musica e del concerto. Il Sandec, ponte superiore, è dotato di piscina, vasca idromassaggi, snack bar e sdraio con teli mare. Qui si potrà godere della magica atmosfera della crociera sul Nilo. Sono inoltre disponibili un business center con personal computer a disposizione, area lettura, lounge bar, discoteca, panorama bar, bazar, parrucchiere, clinica, lavanderia, mini spa, con sauna, vasca idromassaggi, palestra, massaggi e doccia jet. La motonave concerto è stata classificata come NN, New Norm, dal Ministero del Turismo Egiziano, in quanto ha raggiunto nuovi livelli di lusso. Si può optare per due tipologie di crociere sul Nilo, una da quattro notti al Cairo e tre notti navigazione e una da tre notti al Cairo e quattro di navigazione. In entrambi i casi si farà tappa e si potranno visitare i suggestivi siti archeologici, dal Cairo ad Aswan a Luxor, dove restare incantati dall'atmosfera misteriosa e magica dell'antico Egitto. Regalarsi una crociera sul Nilo con la motonave concerto, esclusiva ed in viaggi, equivale a regalarsi un sogno. Visiterete i luoghi più affascinanti del mondo, traversando il Nilo, godendo della magica atmosfera della crociera, ma senza per questo rinunciare al lusso e al prestigio che la motonave concerto saprà offrirvi. Eden Viaggi augura a tutti un'ottima navigazione alla scoperta delle meraviglie dell'Egitto.